ben ritrovante e ben ritrovati su in genere horror io sono sempre greg novità su netflix per con il titolo hate for silver in realtà poi distribuito con il titolo di the cursed fin del 2021 esce da noi solamente adesso regia di sean ellis un film che inizia con un breve prologo ambientato nel 1917 durante la guerra e dove assistiamo ad un fatto particolare un fatto strano in cui un da un corpo di un ferito vengono estratti di prevenne stato un proiettile che proiettile canonico non è e assomiglia molto di più ad una punta dalle sembianze di una punta d'argento la vicenda si sposta poi 35 anni prima siamo in un villaggio francese c'è una ricca famiglia con il proprietario di una grossa tenuta che era sostanzialmente da lavorare a gran parte degli abitanti del villaggio lì vicino c'è un accampamento di nomadi che vogliono e reclamano la terra e che ritengono essere loro da qui i dissidi fra ovviamente la famiglia nobile gli abitanti del villaggio e questi nomadi dissidi che finiranno nel peggiore dei modi in quanto da lì poi non vi dico come perché si scatenerà una maledizione e poi il villaggio gli abitanti del villaggio soprattutto la famiglia dei nostri protagonisti verrà colpita da una maledizione per la presenza anche di quello che sembra essere una belva mostruosa un lupo mannaro ma appunto vedrete poi come si svolge la vicenda si arricchisce poi dalla presenza di un patologo che verrà al villaggio per cercare di capire di risolvere la situazione misteriosa è un film che riprende un po i concetti del del lupo mannaro ma non è il classico film legato a questo tipo di sottogenere cerca di più invece di puntare la questione attorno alla vicenda personale di una famiglia in questo caso di una famiglia nobile appunto questo proprietario terriero di quello che succede agli abitanti del villaggio e soprattutto a questi dissidi che hanno nei confronti di questa di questi nomadi che si accampano lì vicino che pretendono e vorrebbero dimostrare che la terra è di loro proprietà da qui uno sviluppo appunto horror prettamente horror in quanto poi arriverà ovviamente la questa presenza mostruosa questa bella mostruosa in un film che punta tutto sull'atmosfera punta tutto su una situazione che ci presenta un villaggio una campagna sempre avvolte dalla nebbia da alberi spogli da una fotografia che ci dà e ci rende un'atmosfera molto efficace anche una regia abbastanza quadrata e che punta al sodo senza andare a ricercare troppi artifici anche se poi purtroppo il film si perde in facili jumpscare legati a una ripetitività di narrazione che è dovuta poi anche a un dilungarsi fin troppo nel minutaggio del film che ci ripropone una serie di sogni incubi per i protagonisti per avere il pretesto di spaventare lì per lì con appunto i soliti jumpscare questo è un peccato perché tolti questi elementi il film poteva funzionare benissimo perché il racconto legato alle vicende dei protagonisti dei personaggi che non sono tutti dettagliati perfettamente ma danno il spessore contesto della della vicenda ecco se ci si fosse concentrati solo su quell'aspetto lì sarebbe venuto fuori un film molto più efficace e ripeto meno noioso perché poi allungare il montaggio del film significa allungare il brodo infarcendo i film di inutili finché è uno solo ok ma inutili e ripetitivi sogni per i protagonisti ci sono degli elementi interessanti questo sì uno spaventapasseri mostruoso lo vedrete durante la vicenda che un po lega la situazione della maledizione una filastrocca che ritorna che si lega al film al titolo originale a quel titolo hate for silver c'è l'aspetto biblico viene richiamato giuda e i denari d'argento che gli vennero promessi un'epidemia di colera che fa da sfondo ad una situazione che appunto non vuole essere solamente il classico horror con la creatura mostruosa ma si lega anche a un concetto di contagio di trasmissione del contagio alle superstizioni locali che poi superstizioni saranno veramente concrete perché la belva effettivamente c'è e miete vittime ci sono momenti molto ben riusciti la diciamo l'assalto all'accampamento nomade quando viene preso d'assalto inizio film c'è un'inquadratura fissa da lontano che è crudelissima ed è molto efficace così sono come sono efficaci alcuni momenti prettamente horror anche se poi la quando si vede la creatura mostruosa ecco l'effetto speciale in quei casi non mi ha particolarmente soddisfatto e anzi un po lì si cade parlando di effetti speciali che secondo me sono la cosa meno riuscita del film si arriva anche a toccare il body horror e lì l'effetto speciale funziona molto di più è un sottogenere che è sempre rischioso è un momento della narrazione in cui ci sta lo fa in maniera dettagliata ma al tempo stesso lo fa in un momento in cui andava fatto e poi il film prosegue secondo la sua linea narrativa secondo la sua e la sua impostazione anche stilistica che deve avere incentrata di più sulle atmosfere di più sul racconto stesso che sulla parte horror e visivamente è più esplicita ci sono momenti come ho detto riusciti momenti no c'è addirittura l'utilizzo dell'effetto newton bus il famoso effetto il primo jumpscare della storia se vogliamo quello del bacio della pantera poi chiamato newton bus con l'utilizzo del montaggio sonoro e che con il rumore dell'autobus di passaggio sostituisce quello che sembrava essere il rugito di una creatura mostruosa e qui viene quasi riutilizzato anzi viene riutilizzato lo stesso espediente per legare un momento di tensione dove al rugito al verso di una della bestia mostruosa si sostituisce l'arrivo della carovana la fotografia cupa sempre cupa sempre lugubre accompagna e ci accompagna e ci immerge in un'atmosfera che funziona il prologo inevitabilmente si legherà poi all'epilogo del film quindi la storia stessa è anche ben raccontata e avvincente se si tolgono quei 10 15 minuti che potevano benissimo essere tolti perché intanto diluisce il brodo ci distrae ci annoia fin troppo quando invece ci si potrebbe avvicinare all'epilogo finale assistendo alle vicende di questa famiglia in maniera molto intensa perché effettivamente poi di situazioni che coinvolgono ce ne sono e ce ne sarebbero finché mi riprende un po' ritorna un po' il concetto del secondo me ben più riuscito hai mai avuto paura film produzione italianissima anche questa molto recente diciamo che siamo lì siamo da quelle parti ma quel film era più centrato perché si concentrava molto di più sull'aspetto della superstizione dell'aspetto locale del villaggio e oltre a ad essere anche un qualcosa di più finemente collegato alla storia di un giovane leopardi insomma ne ho fatto anche un video a riguardo magari ci torneremo su quel film perché è molto interessante però anche questo si diciamo segue quella quel filone di film che non scade semplicemente nel raccontare una solita storia di un lupo mannaro ma vuole raccontare una storia in più più profonda di una famiglia ci riesce finché non si dilunga fin troppo come ho detto quindi un film che comunque nel complesso è interessante ha dei momenti positivi che superano quelli quelli meno riusciti secondo me da vedere ditemi la vostra perché non so se l'avete già visto commentate come al solito iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti mettete un mi piace condividete insomma tutti gli strumenti che aiutano il canale a crescere e a dare sempre più entusiasmo al sottoscritto per creare sempre video tenere e tenervi aggiornati sulle novità insomma a parlare sempre di cinema e cinema di genere che è quello che ci piace di più ditemi la vostra e alla prossima